TRRRRRAAAA TRRRRRRAAAA Sì vabbè ma non funziona COOOSAAA NON FUNZIONAAA Ma tu teleppe ma come si fa 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 A VINCEREEE Eeeeee Ma chi è che fa che cazzo di rumore li Ma come si fa ma non voglio vedere cosa cazzo è arrivato Dai dentro AII 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 VIA 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 IA VIA Bruciare le gemme via via E A1 OOOWWWWWWWWW Cosa difendo le banane difendo Questi sono banane quelli che noi chiamiamo PORCA MISERIA PORCA Non si può però eh Non si ma da va No va va Dab ada da da Via Spacca tutto Sì tutto spacco Guarda lo vedi come sono felice di perdere Ma dai ma che cacchio è Grande Avanti 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 Ha giocato due stregoni specchiati ragazzi Oh mamma mia Lo bravo fidus lo bravo fidus Lądao fidus Lo bravo fidus Bike shooter Oh la bandits gioca Grande Chide GRANTIG